Un autobus con vari studenti e lavoratori a bordo si è ribaltato a Baraggiano Scalo, in provincia di Potenza, sulla strada provinciale 83. Il pullman di linea, per evitare una collisione frontale con un Alfa Romeo 147 in fase di sorpasso, è uscito dalla sede stradale adagiandosi sul lato destro. A bordo una quarantina di persone, tra lavoratori e ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Fortunatamente nessuno dei giovani è rimasto ferito gravemente. Preoccupanti le condizioni dell'autista della vettura che è stato trasportato presso l'ospedale San Carlo di Potenza in codice rosso ed è attualmente in prognosi riservata anche se non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Potenza e i carabinieri. Esprimo solidarietà e vicinanza alle famiglie degli studenti e dei lavoratori a bordo del pullman che questa mattina si è ribaltato all'altezza di Baraggiano Scalo, ha dichiarato il presidente della regione Basilicata Vito Bardi, dopo aver appreso la notizia dell'incidente. Sono vicina ai ragazzi rimasti coinvolti nell'incidente alle loro famiglie per i momenti di grande apprezzione che avranno certamente vissuto. Dichiarato invece il ministro delle riforme istituzionali e semplificazione normativa Elisabetta Casellati, coordinatrice Lucana di Forza Italia. Infine l'assessore alle infrastrutture della regione Basilicata di Nasileo, nell'esprimere vicinanza gli studenti alle loro famiglie, ha dichiarato che sono in corso accertamenti per determinare le cause dell'incidente.